No, è poco, è poco, è molto semplice. No, non è uscita. Fino a che punto poi invece non è uscita. No, è che si era formata. È successo con altre persone. Allora, si era formata una sorta di mafia. In mafia, dovevano queste persone. Io non ho capito. Io non ho capito. Quelli che potevano, chi mi chiamavano, dicevano cosa. Ci ho messo? Ho capito. Ma c'era una forma. Cosa fa? Eh, no, vogliamo. C'erano pieni? Quattro, sì. No, ma poi andai tranquillamente con la vostra mano. Un po' di teatro. Cioè, andiamo a tutti. Andiamo a tutti. Non riesci a vedere la conoscenza. Perché lui non... Sì. Ma rimane qua. No, ma perché... Alcuni vanno... Sì, vi siete emozionati. Sì. Quando dice voglio andare avanti, voglio andare avanti, voglio andare avanti, voglio andare avanti. Sì. Cioè, quello dice voglio andare avanti, 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 avanti. Che emozione. Mi sentivo bene. Forse... L'effetto migliore. Tu invece vuoi fare uno spettacolino sui commenti scemi degli spettatori che non hanno capito, però fanno finta di aver capito. Questo è la sceneggiata di cui fare. Non ti sto capendo, sinceramente. Non mi stai capendo. Io ti ho capendo. Io non autorizzerò questo mio amico a pubblicarmi. Assolutamente. E lui sta facendo le riprese. No, vabbè, lo spettacolino lo sto facendo io, eh. E non c'entrivo un cazzo. Io e lui. Se ti riferivi alla ripresa lo sto facendo io. C'entra lui. Se hai travisato come dire una domanda. No, secondo me è educazione. Stiamo parlando. Mentre parliamo mi riprendi. Magari me lo puoi anche chiedere. Vabbè. Continua a fare il boffone e non rispondermi. Ok. Vabbè, ma tu vedi che riprendi. Mi dispiace aver ripreso. Cioè, era una cosa interessante. Stai parlando oltretutto. Ma io mi sono inserito nel Discord. No, me lo chiedi. Faccio la giornalista. Io se devo riprendere qualcuno lo chiedo. Quindi me lo chiedi. Per favore, abbassi la telecamera. Allora, intanto... Non si fa... Non si abbassa così. No, no. Io te l'ho detto prima educatamente. Se vuoi fare il tuo link del cazzo da mettere su Facebook per avere mille mi piace. Ok, lo facciamo. Mille mi piace? Ci mettiamo d'accordo. Ma sono troppo pochi eh. Sono troppo pochi eh. Sono troppo pochi mille. Cioè, guarda che qua vai oltre. Va bene. Dai, andiamo. Questo è un coglione. Quest'altro è un altro coglione. Andatemene a fare... Scusate. 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 Non sai come mi piace solo. No, mi dà fastidio.